Le antiche zone, diciamo, degli ebrei, durante il periodo, dove è Federico II. La testa da toro, penso che questo è il contrario. La testa da toro, penso che questo è il caso. La testa da toro è la sede del Vescovo non residenziale, ma titolare. L'attuale Vescovo era un ex nunziapostolico svizzero. L'attuale è molto semplice, quello che richiede molto è il Ciborio, che è il Santissimo Sacramento, una statua della Madonna dei Viggini. Quella tavola che rappresenta una vergine achilopida, cioè una fatta da mari d'uomo, è un'antica icona nel periodo della furia iconoclasta, che è stata realizzata con tutti gli ex corpo. e questo nuovo, oghi ad essere, perché è il Ciborio, che è il Ciborio, di Ciborio, di Ciborio, di Ciborio. Grazie. Grazie. Grazie.